Altro weekend, altro viaggio, oggi siamo a Puccon, una località in cui c'è questo vulcano in cui si può fare hiking Poi ci sono un sacco di altre attività naturalistiche da fare come ad esempio rafting, poi andremo alle terme perché c'è l'acqua calda data dal vulcano, come vedete grande compagnia questo weekend Siamo con altri ragazzi francesi, austria e c'è Bernie che avete già conosciuto, Bernardo che è al portogallo Stamattina siamo andati a fare rafting ma non sono riuscito a fare delle riprese Ma questo qua dietro di me è il vulcano che domani scaleremo, pronti? Andiamo Qu'è il tempo? 6 a.m. Oh my god, are you ready for it? Let's go Let's go Are you ready? I'm ready. Let's go. Vamos. And the volcano. Volcano? Volcano Come avrete visto anche da questo video sto approfittando di questo mio periodo in Sud America per viaggiare tantissimo e scoprire questo continente Volevo darvi un consiglio per quando viaggiate che ho utilizzato durante questo mio periodo qua in Cile per riuscire a risparmiare e soprattutto proteggere tutti i miei dati personali da eventuali hacker che potrebbero rubarmeli Il consiglio che voglio darvi riguarda lo sponsor di questo video che è NordVPN che è un servizio che vi permette di proteggere i vostri dati sensibili e cambiare la posizione del vostro IP per localizzarvi in un altro paese nel mondo Detto in parole povere, gli hacker non possono rubarvi i vostri dati e voi potete accedere a dei siti che in altri paesi non sarebbero disponibili Ad esempio io lo utilizzo per connettermi ad altre librerie di Netflix che non sono presenti in questo paese quindi ad esempio ora che sono in Cile mi connetto per vedere alcune serie tv e film che sono presenti solamente in Italia O ad esempio quando sono in Italia lo utilizzo per accedere alla libreria di Netflix coreana per vedere le serie tv o i film coreani NordVPN può anche aiutarvi a risparmiare perché quando comprate dei voli o degli hotel può capitare che il prezzo varia in base al paese da cui lo state acquistando Quindi in questo momento io mi trovo in Cile Mettiamo che devo comprare un volo dall'Argentina alla Colombia Se lo compro dal Cile a un determinato prezzo potrebbe succedere che ci siano delle variazioni di prezzo e quindi mi permettono di risparmiare sull'acquisto del volo Se io mi posiziono in Argentina Se andate in descrizione trovate il link per ottenere NordVPN con uno specialissimo sconto che dura due anni e inoltre potete acquistarlo senza rischi perché avete 30 giorni di prova soddisfatti e rimborsati Grazie a tutti Quando dimentichi il cucchiaio a casa ma la Nutella serve Si va così Figa ma un ristorantino qui lo apriamo o no? No plastic Ci siamo ragazzi Wow 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 Tosta, tipo torres del pane ma non ce l'abbiamo fatto, senza demone e senza ristoranti Sì, è ora di scendere, saranno 3-4 ore a scendere ora, però siamo felici, troppo bello, troppo bello, prima volta che vedo il trazzare di un vulcano, però ero già salito sul Nettra, quindi con il versante così lo conoscevo, ci vediamo giù Siamo attrezzati, completi, con anche qua lo slittino, per scendere ora da questa parte del ghiacciaio, ci divertiamo Ci sono praticamente queste salse, questa qua è fatta con miele e peperoncino e questa qua è piccante, l'ho messa io qua, cioè è incredibile La mempanadas è con carne dentro, cipolle e formaggio, l'altra che ho già seccato e non ho fatto in tempo a riprendere, invece era con pomodori, camon, quindi prosciutto e formaggio Ciao